Ciao amici e amiche e benvenuti nuovamente ad una puntata di Notti in Giallo. Oggi vi presenterò una delle ultime novità di Netflix, infatti è uscita lo scorso 11 ottobre, Influenze maligne, oppure come si suol dire in Spagna la influenzia, e il film di Dennis Rovira. Vai con la sigla! Dunque, partirò col dirvi che la recensione sarà divisa in due parti. La prima, dove non anticipo nulla, esclusivamente nulla del film, vi spiegherò solamente alcuni aneddoti, e la seconda parte che conterrà degli spoiler. Quindi non vi preoccupate perché vi avviserò prima, prima dello spoiler ovviamente, quindi se non avete visto il film, guardatevi la prima parte, se invece lo avete visto o non avete voglia di vederlo, guardate pure la parte con lo spoiler. Influenze maligne comincia con il ritorno di Alicia nella sua casa d'infanzia, per via di sua madre Victoria, ormai morente a letto e ridotta ad un vegetale. Lì si trasferisce con la figlia Nora e suo marito. Ad attenderla ci sarà Sara, sua sorella rimasta sola con sua madre. Le due cominciano a discutere di un'infanzia un po' travagliata a causa di una mamma, non solo malvagia, ma anche praticante dell'occulto. Il film inizialmente mi aveva molto incuriosito, perché come vi ho detto già nella recensione di Marianne, a proposito, se non l'avete guardata andatela a guardare, ho una profonda ammirazione per le streghe e per l'occulto. E in più avevo letto una recensione su Netflix, non vi dirò di chi per correttezza, che ha descritto il film quasi come un capolavoro. Ahimè, purtroppo il film si è rivelato a mio avviso pessimo. Il regista comincia già con il classico uso dei colori verdi e rossi intermittenti, che abbiamo visto e stravisto in film vecchi e nuovi. Per citarne qualcuno, Cinque donne per l'assassino di Mario Bava, Suspiri e inferno di Dario Argento, ma per citare qualcosa di più recente, eccovi a voi una scena di Dead Silence. Poi c'è la scena della madre in coma, che comunque ha il potere di essere onnipresente, che tanto ricorda Amityville The Awakening e la saga di Insidious, solo con meno suspense. Il tema principale della storia è questo grande dramma familiare, però si verifica con poco dramma e poco horror. Il film risulta essere quindi un prodotto mediocre e facilmente dimenticabile. Un peccato per i predecessori horror spagnoli come Wreck, La Spina del Diavolo, La Madre e tanti altri. La recitazione è a tratti notevole, ho visto anche parte del film in lingua originale e devo dire che gli attori non erano niente male, però la sufficiente capacità recitativa del cast non basta a salvare questo film. Neanche il soundtrack si distingue particolarmente, se non per un brano che ha fatto impazzire alcuni spettatori in cerca di una canzone di cui non si sa né il titolo né l'autore. La fotografia è carina, però, in alcune scene anche notevole. Per quanto riguarda gli attori, invece, questo è quello che penso di loro. Pollice in su per Emma Suarez nella parte della Madre Vittoria. Se proprio devo salvare qualcuno in questo film, lo faccio con lei. Anche se a tratti però mi dava di una blanda imitazione di Piper Laurie, vista in Carrie, Lo sguardo di Satana e Trauma di Dario Argento. Pollice giù per il resto del cast, direi. Ma chi mi ha nervosito maggiormente è l'interpretazione di Claudia Plaser della Bimba Nora. Poco credibile, personaggio snervante e inutile. Ho cercato di farmi piacere il film, tant'è vero che mi sono imposto di vederlo fino alla fine. Però, ragazzi, credetemi, dopo la prima mezz'ora ero già pronto a spegnere la tv ed andare a dormire. Dovremmo buttare via tutta questa merda. Ne sei sicura? Io la venderei su internet. Bene, ragazzi, io terminerei qui la mia brevissima recensione. Non c'era molto da recensire, in realtà. E, appunto, se non avete visto il film, fermate il video in questo momento. Perché da ora in poi, dopo la seconda sigla, partiranno gli spoiler. Come già anticipato nella premessa, il film prende parecchio da film già visti. Cominciamo a citare l'idea della strega che vuole passare da un corpo vecchio e malaticcio ad uno un po' più giovane. E citiamo il classico del 1971, La macchia della morte, di Paul Wenkos, dove un vecchio satanista, morente e malaticcio, organizza il trasferimento della sua anima nel corpo di una giovane pianista da concerto. Inoltre citiamo il film, non so se lo ricordate, di Ian Softley, del 2005, The Skeleton Key, dove in realtà una vecchia strega di un ospizio si trasferisce nel corpo di una giovane infermiera. Per non citare poi l'ultimissimo del 2017 di Jordan Peele, Get Out. L'idea invece del personaggio in coma, ma che riesce con dei poteri a far del male a chiunque li si avvicini, è partita dal film Patrick, del 1978, di Richard Franklin, di cui fecero un remake anche nel 2013, diretto da Mark Hartley. Però ripresa anche in Insidious di James Wan nel 2010, sia la scena ovviamente del coma, come anche l'idea dello scambio di corpi, vi ricordate La signora in nero? Come anche Amityville e Il risveglio di Awakening del 2017. Bene, anche oggi siamo giunti al termine della recensione. Se avete visto il film, gentilmente date il vostro contributo con un commento. Se vi piace il canale, iscrivetevi. E noi ci rivediamo la prossima volta. Una notte in giallo a tutti. Ciao!